Le gallerie dell'A24 potrebbero essere presto chiuse, causando quella che potrebbe essere una nuova emergenza viabilità. La Commissione Gallerie, struttura posta a sovrintendere la messa a norma delle gallerie stradali italiane, in una diffida del 12 febbraio di quest'anno parlerebbe della chiusura di 50 gallerie italiane. In Abruzzo chiuderanno le gallerie del Gran Sasso, San Rocco e Colle Castiglione sull'A24, se entro aprile non verrà effettuata la messa in sicurezza. Le gallerie infatti sono in uno stato di degrado strutturale, con in alcuni tratti addirittura il distaccamento della volta. La norma del Decreto Legislativo 264 del 2006 fissava la data per la messa in sicurezza al 30 aprile 2019, ovvero 13 anni dopo il suo varo. E proprio ad aprile 2019 la società di Carlo Toto chiese il commissariamento del traforo del Gran Sasso per questioni legate all'inquinamento dell'acquifero e la giunta Marsilio, appena insediata, assecondò il concessionario. All'epoca nessuno sollevò la questione manutenzione, eppure la richiesta di commissariamento arrivò proprio allo scadere del periodo atto ai lavori. E i lavori, secondo la norma, sarebbero dovuti essere eseguiti a spese esclusivamente del concessionario, senza alcun onere per le casse dello Stato. Ad oggi sulle autostrade abruzzesi non sono ancora stati svolti tutti i lavori di manutenzione necessari. Dopo lo scandalo che ha coinvolto il viadotto del Cerrano, dell'A14, Autostrade per l'Italia, un altro concessionario, benché gli alti profitti, non avrebbe intrapreso tutte le azioni imposte dalla legge. Occorre specificare, inoltre, che le gallerie del Gran Sasso sono classificate quali gallerie speciali per la presenza dei laboratori di fisica nucleare, che a loro volta stoccano in maniera irregolare ben 2.292 tonnellate di sostanze pericolose. Grazie 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 Grazie